A Bruso Spasi, Bonje Catering, Domenico Genobile. Raccontiamo, Bonje Catering, qual è la filosofia di questa attività? La filosofia è sempre di garantire un servizio eccellente nelle bill dei nostri clienti oppure nelle location che proponiamo, garantendo massima qualità, servizio, arredi, allestimenti. Il tutto noi siamo un ristorante viaggiante, quindi prepariamo tutto sul posto, cucina espressa e tutto per soddisfare il nostro cliente. Il matrimonio è un giorno importante e Bonje Catering assicura tantissime cose tutte insieme, diciamo dove vi trovate. Il nostro showroom si trova a Fancavilla, via Pola 31, dove vi accoglieremo per studiare ad hoc il vostro evento. Grazie mille e buona continuazione. Grazie a voi e buon matrimonio a tutti. Grazie a voi e buon matrimonio a tutti.